Si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico la seconda riunione della Task Force Cina, un momento di confronto che vede coinvolta un'ampia platea di operatori economici e culturali che tende a mettere a disposizione del sistema Italia informazioni sulle relazioni e sulle opportunità con il gigante asiatico. Questo anche alla luce degli recenti incontri istituzionali e del protocollo d'intesa sottoscritto tra Italia e Cina. Come CNA stiamo presidiando con attenzione le evoluzioni in atto a livello internazionale. È evidente come si stia assistendo al fermarsi di un nuovo ordine mondiale, attrazione asiatica, che comprende la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Un'area a forte stabilità con tre grandi potenze, Cina, India e Giappone. La Cina è senz'altro il paese su cui oggi l'attenzione mondiale si concentra. La Belt and Road Initiative rappresenta un progetto strategico per la Repubblica Popolare Cinese per ampliare e consolidare le proprie relazioni commerciali, ma non solo. Come Italia dobbiamo lavorare per supportare al meglio il nostro sistema, fatto di imprese artigiane e di piccole e medie imprese, per recuperare sul fronte dell'export lo scarto che accusiamo rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Questo lo si deve fare attraverso mirate politiche e attività promozionali e in quest'ottica CNA partecipa attivamente ai tavoli governativi per sviluppare questo tipo di politica.